Sei il titolare di un'attività e sei preoccupato per le scelte finanziarie? Nel rapporto con la banca non sei a tuo agio. La Banca d'Italia ha realizzato per te quattro percorsi sulle competenze finanziarie di artigiani e piccoli imprenditori. I video del primo percorso sono dedicati alla finanza della piccola impresa, bilancio, gestione della liquidità, indebitamento e altri strumenti utili per tenere sotto controllo le condizioni di salute della tua attività. Il secondo percorso ti spiega come ragiona una banca e quali criteri adotta per selezionare le imprese da finanziare. Ti offre anche preziose informazioni che possono migliorare il dialogo con i tuoi finanziatori. Il terzo percorso ti aiuta a capire cosa fare e a chi rivolgerti quando ci sono segnali di peggioramento delle condizioni finanziarie e come affrontare i momenti di difficoltà della tua impresa. L'ultimo percorso è dedicato ai servizi della Banca d'Italia per gli imprenditori, centrale dei rischi, pagamenti, strumenti di tutela della clientela. Al termine di ognuno dei quattro percorsi online potrai incontrare un docente che risponderà alle tue domande. Arricchire le tue competenze finanziarie può aiutarti a gestire l'azienda con più serenità e migliori risultati. Il programma formativo della Banca d'Italia è gratuito, comprensibile a tutti e le video lezioni sono pensate per essere seguite quando e dove preferisci. Iscriviti subito. Da oggi prenderti cura della tua attività non sarà più un'impresa. Scelte finanziarie e rapporti con le banche è un'iniziativa di educazione finanziaria della Banca d'Italia in collaborazione con CNA e con Fartigianato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.